Bettio presenta Neoscenica, la nuova zanzariera resistente, funzionale ed esteticamente pregiata. Con profili studiati per offrire un'efficace barriera anche contro le cimici e una forte tenuta agli urti e al vento. Neoscenica è facile da montare perché offre soluzioni per ogni tipo di installazione. Trova il rivenditore più vicino a te su Bettio.it Neoscenica. Futuro nel presente.